Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi, quando sto registrando questo video, è esattamente l'1.12 del 1 ottobre. Questo vuol dire che è uscita la web app alle 19 del 30 e uscirà oggi l'EAPlay con il quale potremo giocare finalmente a FIFA 21 per 10 ore in anteprima. Tuttavia, visto che siamo nel pieno dell'hype, del fomento per il gioco nuovo, cosa ha pensato bene di fare Mamma Iei? Ha rilasciato anche quelle che sono le news per quanto riguarda la stagione competitiva di FIFA 21. E visto che si tratta di una stagione che vede tante, 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 tante novità, ho pensato di portarvi questo video anche perché so che tra di voi ci sarà sicuramente qualcuno interessato a voler competere, qualcuno interessato a quelle che sono le dinamiche e il competitivo. Per questo vi porto questo video. E come potete vedere, mi trovo già su quella che è la schermata delle FIFA 21 Global Series, nel quale probabilmente vi lascerò anche poi il link giù in descrizione se volete dare poi un occhio voi. E possiamo andare a leggere Iei Sports FIFA 21 Global Series dove i migliori giocatori di FIFA del mondo provano se stessi come i best of the best. Questa stagione i giocatori competeranno l'uno contro l'altro in tornei regionali nel corso dei prossimi mesi. I top performing players, ovvero i giocatori che renderanno al meglio, verranno invitati a competere nelle proprie rispettive regioni nei play-off alla fine dell'anno. Potrai guardare tornei come... giocatori come Tex, Dosser, Nicholas, eccetera, rappresentare team come Fanatic, bla 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 bla. Inoltre, se non hai abbastanza di quello che è il tuo team di calcio preferito, potrai anche avere la possibilità di vederlo all'opera su FIFA, in quelli che saranno i tornei dedicati proprio ai campionati calcistici in forma e-sport. Detto ciò, passiamo a quello che è il primo punto di questa schermata, ossia how to qualify, ovvero come qualificarsi a questi tornei. Punto numero uno, registrati, perché da partire dal 9 ottobre fino al 31 dicembre sarà importantissimo registrarsi sul sito che ci verrà fornito, solitamente foodchampions.com, al fine di poter far parte di quelle che sono le Global Series. Come partecipare però poi effettivamente ai tornei una volta registrati, ossia diventando Food Champions verificato, come negli anni passati, dunque per poter partecipare ai tornei bisognerà raggiungere almeno 27 win in una Weekend League. Una volta ottenute poi si è verificati per tutto l'anno. Gioca in quelle che sono i tornei regionali online. Un'altra grandissima novità, infatti, è che quest'anno non ci saranno tornei dal vivo. Ebbene sì, Covid e non Covid, insomma, la EA ha deciso di fare tutti i tornei online, con tutte quelle che sono le conseguenze del caso. Food Champions Verified Players saranno invitati in tornei testa a testa, che saranno tornei double elimination, quindi ci sarà una winner e una loser bracket. Altro punto fondamentale è che sparisce la Swiss, una cosa che a mio avviso è un grosso passo indietro rispetto agli anni passati. E i giocatori che, insomma, si posizioneranno al meglio guadagneranno punti e anche, ovviamente, soldi, al fine di raggiungere poi i regional playoff di fine stagione. Come ti qualifichi per i regional playoff, i giocatori rankati più in alto nel Global Series Ranking di ogni regione saranno invitati per competere, per essere incoronati migliori giocatori di FIFA Ventù. Tipo di eventi? Abbiamo le Online Regional Cup, ossia questi tornei che saranno, a seconda delle regioni, da 3 a 5 e hanno un massimo di 1024 giocatori. E allora mi starete chiedendo, Riberoski, se ci sono più di 1024 giocatori, come di annazione si fanno a selezionare i giocatori? Si selezionano in base alla Weekend League, un altro passo indietro, secondo me, rispetto al passato. E come funziona? Ossia io faccio il mio 27, sono verificato, di conseguenza posso essere invitato. Ma se ci sono 1025 giocatori e il 1024esimo ha fatto 28 e io ho fatto 27, rimango fuori. Quindi diciamo che una volta fatto 27 è importante fare anche almeno un 28-29 per stare tranquilli e rimanere all'interno di quelle che sono le convocazioni per i tornei online. Abbiamo poi le League, ovvero i campionati, come la E-Serie A, la E-Premier League, eccetera. Quindi effettivamente il campionato virtuale di un campionato calcistico vero, diciamo. E poi abbiamo il Regional Playoff, di cui abbiamo parlato mille volte già. E abbiamo poi la Event Schedule, ovvero vi fa vedere quando ci saranno questi tornei online. Ovviamente a noi interessa l'Europa e il primo torneo in Europa ci sarà il 28 e il 29 novembre, a seguire il 9 e il 10 gennaio, il 6 e il 7 febbraio, il 6 e il 7 marzo e il 10 e l'11 aprile. Quindi diciamo c'è un torneo ogni due mesi, praticamente anche qui un altro grosso passo indietro visto che mi aspettavo un maggior numero di tornei, soprattutto visto che insomma saranno tutti quanti online, quindi zero costi in termini di organizzazione per quanto riguarda Mamma Iema. Ve dirò l'ennesimo dietro front per quanto riguarda il competitivo. Poi parliamo di Points, Seat and Allocation, ossia come guadagnare i punti. Al solito con la Weekend League, questo è come si guadagneranno i punti in Weekend League. Qui è come si andranno a guadagnare invece i punti nelle online qualifier, quindi saranno 5 in Europa, eccetera, eccetera, eccetera. Non è stato ancora detto effettivamente quanti punti si otterranno, se si arriva primo, secondo, centesimo e anche quanti soldi, questo poi verrà detto più avanti, ma ovviamente io mi immagino che sui 1024 persone non prenderanno tutti i soldi o prenderanno veramente due spicci. E poi abbiamo la terza possibilità, quella di rappresentare un team di calcio appunto nelle league come la Serie A, eccetera, eccetera, eccetera. Ai Playoff si qualificano i migliori 64 europei di Play, 64 di Xbox, 16 di Nord America su PS4, 16 su Xbox, eccetera, eccetera. A me non interessa ovviamente l'Europa. Intanto se vedete ogni tanto va via tra virgolette la luce perché il monitor si refrescia da solo. Official rules, andiamole a vedere, overview, insomma, solite cose burocratiche, se possiamo dire così, che sono veramente un fottio e non è che ci interessano più di tanto. Quello che però, insomma, voglio andare a evidenziare è il fatto che secondo me è stato fatto un grosso, grosso, grosso passo indietro rispetto a quello che era stato FIFA 19 e FIFA 20 e vi spiego perché. Dare un'enfasi maggiore alla Weekend League va a favorire indubbiamente quelli che hanno i server più vicini, innanzitutto. Oltre a introdurre un altro problema enorme, quello di un pay to win allucinante. C'è gente che sta caricando pensioni delle madri, regà, le pensioni delle madri. Perché è chiaro che online, quando andate a fare i tornei, visto che non si è parlato di giocatori in prestito dati da EA per i tornei online, la gente si sta attrezzando di conseguenza. Quindi se io sono un newcomer, un giocatore che magari è bravo ma alle spalle non ha nessuno e ho una squadretta, già mi sono scordato la possibilità di poter far bene. Perché al 99%, soprattutto su questo gioco che mi sembra un bel pay to win, quando brecchi qualcuno con una squadra maxata è comunque bravo quanto te, arrivederci e grazie. Quindi grosso passo indietro, secondo me, da questo punto di vista. Passo indietro anche sul numero dei tornei e sul prize pool, perché dicono che sia stato aumentato, ma ve dirò, ho i miei grossi dubbi al riguardo, non hanno detto niente, probabilmente lo diranno in futuro. Ma a me sembra che, come ho detto oggi in live, il competitivo di FIFA sta andando sempre più nella direzione di chiusura attorno a quelli che sono giocatori già affermati, ma neanche giocatori affermati diciamo a 360 gradi, proprio quelli che sono i loro protetti, i loro top player da anni, senza la possibilità ai nuovi di poter emergere in maniera facile o quantomeno proprio di emergere, perché è veramente tanto tanto difficile così. Quindi, regà, con la speranza di far bene quest'anno, di fare rapidamente il verificato e poi andarsi a togliere qualche soddisfazione in questi tornei, io vi saluto, vi do appuntamento in questi giorni live, perché ormai siamo partiti a carichi a cannone, regà, o tutti i giorni in maniera prepotente. Fatemi sapere se avete qualche altra perplessità nei commenti riguardo al competitivo. E niente, regà, io per oggi vi saluto e peace.